Da quando ho comprato la mia casa tecnologica c'è una cosa che non ho mai fatto Ovvero tirare questa leva d'emergenza che sta dentro la doccia Allora, in teoria dovrebbe essere una sorta di allarme Che uno tira se cade all'interno della doccia e si fa male Però questo è un monolocale, quindi la domanda mia è Se la tiro a chi arriva l'allarme? Ok, proviamo sperando che non mandi tipo una richiesta d'emergenza a qualcuno Ok, vado Sta squillando qualcosa Mi è sembrato provenisse da questa direzione Ok Qua c'è lo schermo della domotica Ah, ok, meno male L'avviso compare qui così avvisa le altre persone all'interno della casa Davvero utile Ma chi vive da solo come me, come fa?